Gentili telespettatori, buona giornata, sondaggio porta a porta Bruno Vespa, Rai 1. Fratelli d'Italia è al 28,5%, guadagna mezzo punto, il PD guadagna mezzo punto ed è al 20%. Abbiamo i 5 Stelle fermi al 17,5%, la Ledega perde qualcosa al 9,5%, Forza Italia al 7% perde mezzo punto e poi abbiamo azione che guadagna mezzo punto e sale al 3,5%, Italia viva stabile al 3%, Alleanza Verdi sinistra 3,5%, più Europa 2%, noi moderati 1,5%, altri partiti 4%, Il centro-destra raggiunge il 46,5%, meno 1% e il centro-sinistra guadagna l'1% e sale al 25,5%. Grazie a tutti e arrivederci a presto.